Questa è la storia della grande nocciola. C'era una volta una famiglia di scoiattoli che viveva nei boschi delle Alpi. Mamma, papà e i due scoiattolini, Bernardo e Martino. Era una famiglia che abitava su un grande albero e notoriamente gli scoiattoli amano mangiare le nocciole. Un giorno la mamma chiede a Martino, che è lo scoiattolo più piccolo, di andare al supermercato a comprare un po' di nocciole, perché erano rimasti senza. Allora, scoiattolino va al supermercato e compra due chili di nocciole. Però, mentre torna a casa, sai com'è, comincia a mangiarne una, poi la mangia una seconda, poi la terza, poi una manciata. In totale arriva a casa e ha mangiato tutte le nocciole. Allora, dice la mamma, eh, al supermercato, blup, al supermercato, blup, le avevano, blup, esaurite e quindi non ho potuto comprarle. L'aveva, eh, come esaurite. E poi, scusami, Martino, che cos'hai che fai sempre blup? Io, no, no, niente, blup, e la pancia di Martino era un po' grossa. E lui continuava a fare blup. Allora, dice, ma anche Bernardo, il fratello scoiattolo, gli dice, ma Martino, ma che cos'hai alla pancia? Vedo che fai blup. Anche il papà cominciava a guardare, papà scoiattolo, diceva, ma è possibile che abbiano esaurito le nocciole? Eh sì, blup. Non è che le hai mangiate tu? Gli dice, papà, no, no, io, no, blup, aia, blup, aia, che male di pancia. Eh, per forza, avendo mangiato due chili di nocciole, a un certo punto la mamma capisce e dice, Martino, hai mangiato tu tutte le nocciole? Eh sì, ho mangiato solo un po' di nocciole, quelle che mi ha dato il supermercato. Ah, va bene. Allora mandiamo Bernardo a prendere delle altre nocciole. In effetti Bernardo va a prendere delle altre nocciole, ma questa volta erano veramente esaurite e Bernardo non aveva mangiato neanche una. Quindi torna indietro e dice, mamma, sono esaurite le nocciole. Il papà dice, caspia, come facciamo? Qui esaurite le nocciole, quell'altro se ne è mangiate tutte. Non abbiamo mica tante soluzioni, però in effetti potremmo chiedere al nostro amico Gufo Lucio, che è un Gufo saggio, che sa dove sono le cose e risolve tutti i problemi. Allora vanno dal Gufo Lucio e il Gufo Lucio dice, ah no, nocciole non ce ne sono più, però io ho una certa idea, ce l'avrei. Venite con me sulla mia schiena e vi porto io in un posto in cui c'è una grande nocciola. Allora Martino e Bernardo e il papà e la mamma salgono sulla schiena del Gufo, che è grande, un po' appesantito il Gufo, ha quattro scoiattoli, però insomma. Il Gufo comincia a volare e dai boschi delle Alpi vola, vola verso sud, passa tutta la pianura, poi il mare e arrivano in un posto e quando arrivano il Gufo dice, qui siamo in Africa e qui ci sono le grandi nocciole. Vedete che belle palmi e che belle nocciole di cocco. Sono enormi e potete mangiarle e portarle a casa. Caspita, bella idea. Allora cosa fanno? La famiglia di scoiattoli caricano oltre a loro anche la grande nocciola, che è grande così, una noce di cocco, e la riportano indietro. E poi il Gufo, lì che vola dall'Africa nuovamente alle Alpi, comunque un bello gagliardo ce la fa, quando arrivano nei boschi delle Alpi, tutti contenti, ma la noce di cocco è durissima e loro non riescono a romperla. Allora al papà viene in mente di chiamare il signor Castoro, il quale arriva benissimo con i suoi dentoni e il papà gli dice, non è che potresti aprire questa nocciola? Lui, subito, lo faccio, i miei dentoni funzionano benissimo! E tu apri la nocciola e tutti mangiano la grande nocciola. Ciao a tutti!